cosa ci fa un frate rock con in mano una chitarra credo che sia una sfida una sfida nel coniugare la passione e una vocazione per annunciare qualcuno di importante ecco che allora la musica e anche la danza sono diventati due linguaggi che hanno sorretto un po' tutto questo progetto dal titolo tu sei bellezza è un momento di preghiera in chiave moderna l'idea di poter danzare e cantare è proprio quell'espressione di gioia che ogni persona porta dentro di sé un tempo di evangelizzazione perché questo è il concerto è un modo forse per cambiare lo sguardo intorno noi e su noi stessi che noi non siamo i nostri sbagli non siamo i nostri errori non siamo le nostre cadute noi siamo la bellezza che dio ha messo dentro ciascuno che cosa vuole portare questo progetto un'esperienza e un incontro l'esperienza di riconoscerci belli e di essere abitati da una parola importante che è la parola del signore dentro che cosa un grande momento di festa di comunione con altre attraverso appunto la musica e la danza questo ti fa ritrovare anche un centro e ti fa ritrovare quella leggerezza che permette di riprendere la strada del cammino in un modo veramente unico ed esclusivo siamo pronti a portare la bellezza nella tua città contattaci se vuoi saperne di più mio signore resterò grazie a tutti